Il mio nome è Alessandro Di Rienzo, sono uno dei neurosurgetti di associazione dell'Università Politecnica di Marca in Ancona, in Italia. Il tema della mia presentazione è la controverso della tecnica di decompressiva crinectomia. La crinectomia crinectomia è essenzialmente l'opera della scuola e la strada durelle, in condizioni in cui il cervello è compressato e sotto pressione, perché di una massa externa che sta spostando, o perché di una scuola del cervello. Ci sono molte difficoltà sulle tecniche, e ci sono molte problemi riguardo l'applicazione della tecnica. perché, essenzialmente, la maggior parte delle persone pensano che, secondo i dati pubblicati, riduce la pressione intracraniali, portando a livello normale, e anche aumenta il risultato dei pazienti. Il grande problema è che la scuola del cervello è aumentata, ma al costo di risultati non funzionali, non buoni funzionali, e anche con il problema, che le persone, che sceglie la decompressiva craniectomia, normalmente necessitano una seconda procedura, che è la cranioplastia, che è la ricostruzione del cervello, che esposte i pazienti, di nuovo, a un'altra scuola, e di nuovo, a più rischi. Quindi, essenzialmente, è un tema, che è così discutito, che, fino ad ora, non c'è assolutamente consensuale, ovviamente, questa tecnica, che è stata applicata ora, per over 40 anni, è stata estendata, non solo per il trauma, che era l'indicazione iniziale, ma anche per altre condizioni, come la infeccia del cervello, la hemorrhagia subarachnoide, la hemorrhagia intracerebrale, la hemorrhagia intracerebrale, la infeccia, soprattutto la encephalitis e la abscessa del cervello, e anche le scuole di altre patologie, come gli AVM e i tumori. Quindi, è un tema interessante, che probabilmente necessita più attenzione. Grazie.